Buongiorno ragazzi, allora, il problema di oggi è che molti ragazzi facendo scommetti con gli amici si domandano tutt'oggi se il carburatore c'è una flangia. Una flangia, benissimo. Io posso assicurare che su alcune moto non c'è la flangia nel carburatore, ma in effetti esiste. E io oggi ve lo dimostrerò e vi dimostrerò anche come si smonta. Benissimo, andiamo a un 17 del nord. Questo qua è un 17 del nord, 17 e mezzo per essere chiari, e questa qua è la flangia, come vediamo, la vedete? Benissimo. Una volta che voi avreste smontato il carburatore, questa qua è la flangia, basta poco per levarla. Non è incastrata in nessun mondo, è solo infilata. Ecco, così entrerebbe molta più aria e avreste più velocità con la vostra moto. Con questo è ovvio che andrete più piano, ma nel collaudo vi potrebbe essere molto utile. Arrivederci ragazzi. Spero che vi ho fatto vincere la scommetta con il vostro amichetto. Commentate esattamente qui sotto. Se volete video di altre smontate o domande, qualsiasi tipo, su moto, penne, su tutto. Arrivederci ragazzi. Ci vediamo nella prossima puntata.